La mattina che io e Ali siamo diventati fratelli faceva un caldo da morire e stavamo riparati sotto l'ombra stretta di una caccia. Era venerdì, il giorno della festa. La corsa era stata lunga e stancante, eravamo tutti e due sudati fradici. Da Bondere, dove abitavamo, siamo arrivati dritti fino allo stadio Cons, senza fermarci mai. Sette chilometri, passando per tutte le stradine interne che Ali conosceva come le sue tasche, sotto un sole talmente coccente da sciogliere le pietre. Sedici anni in due avevamo, otto a testa, nati a tre giorni di distanza l'uno dall'altra. Non potevamo che essere fratelli, aveva ragione Ali, anche se eravamo figli di due famiglie che non si sarebbero neanche dovute rivolgere la parola. E invece vivevano nella stessa casa, due famiglie che avevano sempre condiviso tutto. Stavamo sotto quella caccia a prendere un po' di fiato e di fresco, imbrattati fino al sedere della polvere bianca e sottile che si alza dal fondo delle strade al minimo sbuffo di vento. Quando da un momento all'altro Ali se ne è uscita con quella storia della Abaio. Vuoi essermi Abaio? Mi ha chiesto, mentre ancora aveva il respiro spezzato, le mani e i fianchi ossuti, stretti sotto i pantaloncini blu che erano stati di tutti i suoi fratelli prima di finire a lui. Vuoi essere mia sorella? Conosci qualcuno per una vita e c'è sempre un momento esatto a partire dal quale, se per te è una persona importante, da lì in poi sarà sorella o fratello. Legati per la vita da una parola si rimane. L'ho guardato storto senza fargli capire cosa pensavo. Solo se riesci a prendermi, ho detto all'improvviso, prima di scattare via di nuovo in direzione della nostra casa. Ali deve avercela messa tutta perché dopo pochi passi è riuscito ad afferrarmi per la maglietta a farmi inciampare. Siamo finiti a terra, lui sopra di me, nella polvere che si attaccava ovunque, al sudore della pelle e ai vestiti leggeri. Quasi l'ora di pranzo, in giro non c'era nessuno. Non ho cercato di divincolarmi, non ho posto resistenza, era un gioco. Allora mi ha chiesto, respirandomi il suo fiato caldo sulla faccia e facendosi di un tratto serio. Io non l'ho neanche guardato, ho solo strizzato gli occhi schifata. Mi devi dare un bacio se vuoi essere mio fratello, lo sai, sono le regole. Ali si è allungato come una lucertola e mi ha schiacciato un bacio bagnaticcio sulla guancia. Abaio, ha detto lui, sorella. Abowe, ho detto io, fratello. Ci siamo rialzati e via. Eravamo liberi, di nuovo liberi di correre, almeno verso casa. Il giorno in cui ho compiuto dieci anni era anche il giorno della gara dei quartieri della città. La guerra era sempre più violenta, tutto diventava più difficile, perfino organizzare la corsa annuale, che per me era la cosa più importante del mondo. Erano infatti passati 16 mesi da quella precedente, non 12. Con la guerra anche gli anni cambiavano di lunghezza, il tempo subiva le dilatazioni della violenza. Ali, in tutto quel periodo, era stato un bravo allenatore. Sapeva quando costringermi a continuare con gli esercizi, anche se non ne potevo più, ma allo stesso tempo aveva capito come esaltarmi. Mi ero allenata tanto in quei mesi e volevo vincere ad ogni costo. Vincere per me, vincere per dimostrare a me e a tutti gli altri che la guerra poteva fermare alcune cose, ma non tutto. Vincere per fare felici Abe e Uyo. Abe doveva aver percepito la mia agitazione, perché quella mattina mi ha chiamato vicino a sé e mi ha detto che sapeva che un giorno sarei diventata una campionessa. Non mi aveva mai detto niente del genere. Era stato tenero a volte, ma non si era mai spinto fino a incoraggiarmi. Da una tasca dei pantaloni di cotone cachi ha tirato fuori una fascia elastica bianca della Nike, di quelle da mettere sulla fronte per asciugare il sudore. Doveva essere rimasta tra i vestiti che non era più riuscito a vendere, ammassati insieme a mille altre cianfrusaglie, nello stanzone di fianco a quello di Ali e i suoi fratelli. L'ho abbracciato forte. Il bastone appoggiato allo schienale della sedia di paglia ha rischiato di cadere. Samia, se oggi vinci ti prometto che la prossima gara la farai con un paio di scarpe da ginnastica nuove. Ha detto mettendomi la fascia come se fosse stata una corona. Non credevo alle mie orecchie. Un paio nuovo era qualcosa che non avevo mai neanche immaginato di possedere. Correvo con le scarpe da tennis che a Said non entravano più e che erano già state di Abdi, Fatà e di Schaffici. Questo voleva dire che la scarpa destra aveva un buco sulla punta e la sinistra la suola talmente consumata che era come correre scalza. Sentivo tutto quello che calpestavo, sassolini, semi, rami, rametti, tutto. E mi deconcentravo perché dovevo stare attenta a evitare ossa di animali o lattine di olio per motori buttate per strada o a non finire dentro le spaccature della terra o le buche profonde 30 centimetri. Ti prometto che farò di tutto per meritarmi le scarpe, Abe, ho risposto, mentre con le dita mi assicuravo che la fascia di spugna fosse reale. Ma dove vuoi arrivare tu, eh? Mi ha chiesto lui stringendomi le guance con una delle sue manone e muovendomi la faccia di qua e di là. Scherzava, ma io ho preso la cosa seriamente, come sempre, quando si trattava della corsa. Abe, oggi ho dieci anni. Sì, è anche per questo che se vinci, no, non l'ho lasciato finire. Ho dieci anni e vedrai che quando ne avrò 17 correrò alle Olimpiadi. Ecco dove voglio arrivare. Si è messo a ridere. Abe, io parteciperò alle Olimpiadi del 2008 a 17 anni. Ecco dove arriverò. Io ho ripetuto quella mattina. Vedrai una pausa. Anzi, un giorno le vincerò anche. E sentiamo, dove si terranno le Olimpiadi del 2008? Qui in Somalia? Ha chiesto lui sarcastico, sapendo benissimo che non poteva essere. No, in Cina, ho detto, mentre ancora tastavo la fascia. Ah, in Cina. E tu andrai in Cina, quindi? Certo, non le posso correre da qui le Olimpiadi cinesi. Abe. A quel punto mi ha guardato serio. Finalmente aveva capito che non scherzavo. Va bene, Samia, ti credo, ha detto accarezzandomi i capelli. Se ne sei così convinta, allora ci arriverai di sicuro. Poi si è sistemato sulla sedia come a guardarmi meglio, a osservarmi per la prima volta con altri occhi. Sei una piccola guerriera che corre per la libertà, ha detto. Sì, sei proprio una piccola guerriera. Mentre parlava, aveva preso ad aggiustarmi la fascia elastica sulla fronte. Le nostre dita si sono toccate. Se davvero ci credi, allora un giorno guiderai la liberazione delle donne somale dalla schiavitù in cui gli uomini le hanno poste. Sarai la loro guida, piccola guerriera mia. Dopo una settimana sono ripartita. Tutto nel frattempo in quei giorni era cambiato. Come una pianta che all'improvviso dà i suoi frutti, da quel materasso fetido era germogliato il seme del mio egoismo. Avevo cominciato a pensare a me soltanto. Ogni cosa era subordinata alla mia sopravvivenza. Ero diventata più selvatica, solitaria. Il mio unico obiettivo era arrivare alla fine del viaggio. Mi ero messa da sola in quella situazione e quella situazione mi aveva trasformata, per sempre, in pochissimi giorni. Non potevo più uscirne, a meno di non tornare indietro a piedi. Potevo solo proseguire e accettare la mia trasformazione. Dovevo farcela a tutti i costi, non più l'obiettivo finale. C'era la sopravvivenza. Eravamo un po' meno questa volta, 48. Si stava un po' più larghi, non avevo la sensazione di svenire ogni buca. Tutti sapevano che il peggio del viaggio doveva ancora arrivare, l'attraversamento del Sahara. Ognuno nella sua vita aveva raccolto decine di racconti, sapevamo che il Sahara era la prova più dura. Per questo facevamo di tutto per non pensarci. In più ci eravamo riposati per una settimana e avevamo un po' più di spazio. questo ci ha regalato una specie di folle euforia. Cantavamo. In quella seconda tappa cantavamo. Per passare il tempo, per scandire le ore. Lo spazio attorno non aiutava, non c'era niente. Un'interminabile distesa ocra di niente. Terra, terra ovunque. Polvere fine che si alzava e ti si infilava in gola se non schermavi la mano con il velo. Terra e arbusti secchi. E un sentiero, quello su cui eravamo. Dritto come un filo a piombo puntato verso il nord. A turno cantavamo canzoni dei nostri paesi. Ha cominciato una donna etiope con il figlio di undici mesi in braccio. I suoi connazionali l'hanno seguita a ruota. Poi anche noi somali abbiamo fatto lo stesso. E infine i sudanesi. Di tutto pur di non pensare. Se Hoden fosse stata lì sarebbe stata felice. Chissà se non l'avesse fatto nel suo viaggio. Forse aveva riscosso un gran successo. Un giorno me l'avrebbe raccontato non ora. Non ha senso pensare più in là di quello che si ha sotto gli occhi. Il futuro non esiste. Dopo venti ore di macchina ci siamo fermati di nuovo, davanti a una costruzione in mattoni circondata soltanto da quel deserto polveroso. Tutto attorno, niente. Era notte, ma erano almeno sei ore che non vedevamo altro che terra e pietre. Pietre e terra. Poi, tutto un tratto, la vegetazione bassa si è confusa con il terriccio. E presto ogni cosa si è trasformata in sabbia. Vera e propria sabbia fine. Senza rendercene conto eravamo entrati nel Sahara. Ecco i canti. A questo erano serviti. Presto abbiamo capito che di nuovo non ci trovavamo a Khartoum, ma in un posto che ci è stato presentato come Sharif el-Amin. Anche questo autista e il suo accompagnatore parlavano solo sudanese e un po' di arabo. Di nuovo, alcuni di noi traducevano. Ci hanno detto che la jeep aveva avuto un imprevisto ed eravamo stati costretti a fermarci. Lo capisci presto nel viaggio. Che la verità non è una cosa che appartiene a chi scappa e ha bisogno di un rifugio. Quella jeep non era rotta. Quella jeep andava benissimo. Ma noi abbiamo voluto crederci, soltanto perché volevamo scendere e stirare le gambe e la schiena. Si baratta la verità con la sopravvivenza. Per poco, per un niente. Soltanto un somalo si è infuriato. Era magro, aveva l'aspetto dell'intellettuale, portava occhialini con una montatura sottile, le lenti ricoperte da uno strato di polvere a cui doveva essersi abituato. Siete degli sporchi truffatori, ha detto in arabo, ladri e bastardi, truffatori da quattro soldi, ha sbraitato con la schiuma alla bocca. L'aiutante dell'autista gli si è avvicinato e gli ha tirato un sonoro schiaffone. L'uomo è caduto a terra, gli occhiali si sono rotti, spezzati nel mezzo. A fatica, con i due moncherini in mano, si è rialzato e ha insistito fate schifo, siete truffatori da quattro soldi. Il trafficante gli ha dato un calcio all'altezza del polpaccio e lo ha fatto cadere di nuovo. Ha detto taci, hawaiian, animale. Poi basta. Eravamo nelle loro mani, loro lo sapevano. Hanno imparato a capire quando un uomo si trasforma in un bisognoso di rifugio. Lo leggono negli occhi, è una cosa che si vede. Chiara come il sole che sorge, come l'acqua che scorre. È una cosa che ti porti scritta negli occhi. Puoi fare di tutto per mascherarla, ma non ci riuscirai mai. È l'odore dell'animale sottomesso. Lì, per la prima volta, siamo stati chiamati animali. Quando entri nel deserto, smetti di essere un uomo. Ero già stata a Taharib ad Addis Abeba, ma adesso ero una Taharib bisognosa di rifugio. Una clandestina fragilissima. Un animale legato alla vita da un filo sempre più sottile. Ti prendono abbastonate. Se non hai soldi, ti prendono abbastonate. Se non esegui gli ordini, ti prendono abbastonate. Se osi rispondere, ti prendono abbastonate. Se chiedi più acqua, ti prendono abbastonate. Non gli interessa se sei uomo, donna, se sei adulto, bambino. Ti prendono abbastonate. Se fai troppe storie, ti portano alla polizia. E lì hai solo due strade. Pagare i poliziotti per essere consegnato ad altri trafficanti, oppure farti riaccompagnare indietro al confine con l'Etiopia. Presto nel viaggio si imparano il silenzio e la preghiera. Presto, nel viaggio, si impara a dimenticare il motivo per cui sei lì e a praticare silenzio e preghiera. A Sharif Alamin, in quella casa di mattoni, che poi era una prigione con le sbarre alle finestre, sono rimaste dieci giorni. Due litri d'acqua ogni 24 ore e due porzioni di cibo, un materasso a terra in una camerata da 30. Per arrivare a Khartoum servivano altri 200 dollari. Avevo quasi finito i soldi. Il terzo giorno ho chiamato Hodan in Finlandia e le ho confessato che ero partita. Credeva fossi ancora da Adis Abeba, non avevo voluto dirlo a nessuno. Avevo soltanto un minuto di tempo, non di più. Lei sapeva. I trafficanti quello ti concedono con i loro telefoni satellitari. Un minuto sembra poco, ma in quelle condizioni diventa eterno. Dentro un minuto ci puoi far stare tutto quello che serve. Impari che un minuto può salvarti la vita. Non serve di più. Hodan non se l'aspettava. Parlando a Rafika mi ha detto di fare attenzione, di cercare di fare amicizia con i somali, di stare sempre in gruppo, di non allontanarmi mai, di copiare gli altri per passare il più inosservata possibile. Improvvisamente il mio cervello ha ricominciato a funzionare. Registravo tutto quello che diceva. Mi ha chiesto dov'ero. Gliel'ho detto. Lei non c'era stata, non conosceva il posto. Il suo viaggio aveva preso un'altra direzione. Le ho detto che avevo bisogno di soldi per continuare. Quelli che avevo erano finiti. Non volevo chiamare Oio o Said. Non volevo si preoccupassero. Li avrei sentiti dall'Italia una volta arrivata. Le ho comunicato dove spedire il denaro. Prima di chiudere mi ha ricordato di non avere paura. Non dire mai che hai paura Samia. Va bene Abaglio. Mai. Era quello che le dicevo io durante il suo di viaggio. Ma adesso era tutto diverso. Avevo paura. Ne avevo tanta. Sfilacciata. Mi sentivo sfilacciata. come la foto di Mo Farah schiacciata dentro il sacchetto. Mi sentivo sottile come ali di farfalla. Della sesta consistenza di una nuvola. Puff. Quante cose si riescono a dire in un minuto. Quante.